Dalla nero della carbone si dovrebbe passare al blu dell'idrogeno, lei presidente di Estra in un recente intervento sul sole 24 ore ha disegnato una nuova via energetica sia per l'Italia che per l'Europa si parla di decarbonizzazione, cioè una di vecchi combustibili per passare una miglior via, intanto ci può spiegare le differenze tra idrogeno verde e blu? L'Europa si è allineata all'agenda delle Nazioni Unite 2030 che ci obbliga per il nostro paese il raggiungimento del 55% della produzione di energia da fonti rinnovabili, il nord Europa sta puntando molto sull'idrogeno verde, cioè l'idrogeno che deriva da fonti rinnovabili, quindi strettamente connesso alla capacità del nostro paese in questo caso di produrre un'ingente quantità di energia da impianti fotovoltaici ed eolici, cosa complicatissima per il nostro paese che ha già raggiunto una buona percentuale di produzione da fonti rinnovabili, ma considerate che l'idrogeno verde lo potremmo fare una volta soddisfatto il fabbisogno complessivo, quindi si tratta di recuperare energia addizionale, quindi è complicato per l'Italia anche a tutela del paesaggio immaginare di avere le centrali idroelettriche del nord Europa o immaginare di avere parchi eolici offshore in mare aperto o importanti impianti fotovoltaici che andrebbero a detrimento del paesaggio. La via italiana può essere l'idrogeno blu che deriva sì dal metano ma esclude le emissioni fuggitive e quindi azzera la parte potenzialmente inquinante e potremmo sostituire il nostro gas metano nelle reti di distribuzione del gas con un gas tutto sommato pulito che potrebbe agevolare la transizione energetica. Io ho proposto questa via, ci stiamo confrontando come Utilitalia con il Mise a cui stiamo per consegnare un dossier in collaborazione delle maggiori università italiane proprio per contribuire al tavolo del recovery plan e trovare una via tutta italiana per valorizzare i nostri asset. Si parla di 258 mila chilometri di reti gas che devono avere un futuro e non possono diventare il sulcis italiano. Perché puntare sul nu rispetto al verde? Perché appunto valorizza le nostre reti, perché il verde è un obiettivo per noi non raggiungibile nel breve periodo e perché valorizzeremo le reti del gas. Soprattutto in questa fase dovremmo tenerne conto perché si pensa di far ripartire le gare per la distribuzione del gas e sono come impianto tecnico e normativo datate al 2000 e non tengono minimamente conto dell'implementazione tecnologica e dei nuovi gas ecologici che potremmo far veicolare dentro i nostri tubi. Quanto può essere quindi determinante se si pensa ai nostri territori una rete capillare sicura come quella del gas? L'Italia è un'eccellenza europea, abbiamo la rete più moderna anche a livello di materiale, le emissioni fuggitive sono le minime in Europa e convertire la nostra rete avrebbe sicuramente comporterebbe uno sforzo minore rispetto all'Inghilterra, alla Germania e altri paesi del nord. Quindi continuiamo a preservarla, a investirci perché è un patrimonio soprattutto degli enti locali che l'hanno costruita grazie alle imposte dei cittadini negli anni 70, 80, 90. E' qui il sistema delle gare all'altezza di questa nuova sfida ambientale ma soprattutto anche economica? No, assurdamente si continuano a celebrare gare che rischiano di privilegiare accorpamenti eccessivi, grandi gruppi industriali e significa la possibilità per gli enti locali di perdere il controllo di asset e di redditività è importante in favore dei cittadini. Credo che vanno tarate sull'implementazione tecnologica e sui reali fabbisogni nel segno dell'efficienza energetica e delle economie municipali. Lei è anche vicepresidente di Utilitalia, avete avuto rapporti con il governo, presenterete a breve un dossier, con quale finalità? Utilitalia è un insieme di quasi 500 aziende pubbliche e parapubbliche che operano nel settore dell'energia, dell'ambiente e dell'idrico. Abbiamo presentato di recente il nostro contributo progettuale che costa di 25 miliardi di investimento in questi tre settori. Noi possiamo contribuire a un nuovo sviluppo economico e a un punto e mezzo di PIL secondo i nostri calcoli. Si parla di 250 mila posti di lavoro che potrebbero arrivare dal nostro settore, a patto che il governo che ci amministra si sveglie, si adoperi perché abbiamo bisogno di una riforma del codice degli appalti, di semplificazione del processo autorizzativo per poter mettere a terra queste progettualità.